Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Adesso è un po' silente la Presidente del Consiglio, ma se lei fa una ricerca in internet trova anche diversi tweet di sostegno quando all'epoca accadde il fatto da parte della Presidente del Consiglio. Probabilmente adesso è un po' più guardinga nel prendere una posizione e ha il problema di Matteo Salvini che invece le sta coprendo quella destra a cui ha sempre detto anche la Presidente del Consiglio che quella legittima difesa andava sostenuta e modificata. Del resto la legge sulla base della quale Rogero è condannato è la legge che è stata riscritta nel 2019 proprio dall'intervento della Lega e di Salvini, rivedendo anche il tema della legittima difesa. Io credo che questo sia un Paese che ha una carta costituzionale con dei principi molto chiari, che non ci si può fare giustizia da sé, che certo è necessario il Presidio dello Stato, che certo dobbiamo mettere più risorse sulle forze dell'ordine, dare a quelle forze dell'ordine gli strumenti per poter proteggere i cittadini e non far sentire nessun cittadino da solo rispetto ai reati e a quello che succede. Ma io non commento mai le sentenze. Devo dire però che quel video mi ha veramente impressionato, insomma, dall'idea di un'esecuzione più che di una difesa legittima. e quindi onestamente credo che la posizione, peraltro non condivisa, mi verrebbe da dire, da tutta la maggioranza, perché i silenzi ci sono e sono silenzi importanti, a parte quelli della Lega, non mi pare che ci sia stato un seguito particolarmente forte da parte della maggioranza. E credo oggettivamente che questo dimostri che c'è uno spazio politico che sta coprendo Salvini su questi temi, che una volta erano i temi in particolare anche e soprattutto di Fratelli d'Italia, e che la Presidenta del Consiglio sia in difficoltà di inseguirlo.